...recupera loro i consigli, a quattro ore il pacchetto è consegnato praticamente a costo zero. Ecco, ci rendiamo conto come è tutta una questione di organizzazione e di volontà. Poi loro è vero, sono svizzeri, però insomma se abbiamo imparato anche noi a fare la cioccolata buona come la fanno loro, non vedo perché non potremmo anche imparare. Come? Beh, è chiaro allora che nel momento in cui dobbiamo portare le mozzarelle di Gioia del Colle da Gioia del Colle a Brescia, io non le porterei in bicicletta. Quello che farei però è l'ultimo... Ah no, vabbè... Vabbè... Tornando quindi ai micro hub, vedete qua delle rappresentazioni fisiche. Cioè vedete realmente come funziona. Arriva un luogo dove c'è un... Senza dare fastidio a nessuno, in alcuni casi veramente in luoghi totalmente abbandonati a se stesso. Se guardate l'immagine in bassa destra, vedete che c'è una persona incappucciata, non perché faccia parte di Black Block, ma perché piove, no? E perché evidentemente siamo in un paese dove il clima è meno mite del nostro. Però la soluzione adottata è comunque quella che vuol dire lasciare un furgone, lasciare i materiali da trasportare, lasciare il bancale in un punto dove poi tanti piccoli soggetti li distribuiscono e li portano a destinazione evitando traffico e senza creare il traffico, perché poi è anche quella la questione. Cioè mentre io vado al lavoro la mattina, devo lottare con gli altri che vanno al lavoro, devo lottare con quelli che stanno cercando parcheggio, che rappresentano il 40% del totale del traffico generato, e devo lottare anche con questi qua che devono consegnare le merci mentre io sto andando al lavoro. Cioè tutto questo mi crea un problema. Questo problema l'abbiamo, loro lo stanno risolvendo in questo modo e forse lo possiamo risolvere anche noi. In che modo lo possiamo risolvere anche noi? Cercando di sostenere quelli che sono questi tipi di attività. In Germania stanno prevedendo dei finanziamenti all'acquisto, dell'incentivo all'acquisto di quelli che potremmo chiamare delle megacargo, cioè con una capacità di carico di almeno 100 kg e di un metro cubo di volume. Il governo tedesco sta incentivando l'acquisto di questa cosa. La stessa cosa sta facendo la città di Mechelen, in Belgio. Quindi dicono noi non vogliamo più furgoni in mezzo alle scatole, incentiviamo l'acquisto di questi veicoli. È una cosa abbastanza simile a quello che è stato fatto a Bologna con l'incentivo all'acquisto dei tricicli, delle biciclette cargo. Insomma è tutta una cosa che si può fare, basta mettere sui due piatti della bilancia quelli che sono i costi e quelli che sono i benefici. E visto che il traffico sembra essere il grande problema del terzo millennio, comunque uno dei grandi problemi insieme al cambiamento climatico, forse vale la pena andare in questa direzione. A questo chiaramente bisognerà aggiungere una serie di strumenti disposti in giro per la città per facilitare quello che è l'attività di logistica in bicicletta. Quindi in questo caso vediamo quelle che vengono tecnicamente chiamate le bike box, ovvero dei luoghi sicuri, ma sicuri veramente, dove io posso lasciare la bici e essere sicuro di trovarla al momento in cui ho finito di fare quello che devo fare, perché chiaramente come abbiamo visto prima non stiamo parlando della scassona da 200 euro di bicicletta che possiamo lasciare in stazione o da 50 euro che se me la ruba il tossico poi vado da un altro tossico e gliene compro un'altra. Stiamo parlando di veicoli che hanno un valore magari anche di qualche migliaio di euro che se io non ho disponibilità del box durante la notte per ricoverarla ho bisogno di una soluzione alternativa. E poi esiste tutto un sistema, tutto un network di circa 60 operatori che già operano a livello nazionale che sono i bike messenger, che sono l'equivalente dei Pony Express in bicicletta che già oggi operano in giro per tutta Italia e in diverse città e che quello che fanno è consegnare merci da A a B senza impatto sul traffico, senza impatto sull'inquinamento e poi soprattutto con velocità superiori a qualunque altro vettore per quanto riguarda le consegne in ambito urbano che creano posti di lavoro e insomma sono con delle logiche che sono abbastanza lontane da quelle dei rider dei sistemi di food delivery che abbiamo visto negli ultimi tempi. Io volevo darvi un'introduzione così abbastanza generica sul tema se poi avete bisogno di approfondimenti o quant'altro insomma il PR può facilitare il mio contatto comunque ve lo lascio però insomma è un tema su cui andare. Domanda? Di quali veicoli stai parlando? Questo, considera in questo caso che... A quel punto lì non è più ciclabilità ma è veicolo qualsiasi cioè quello che mi chiedevo guardando... Sì, ma allora... Sì, non è molto diverso da un'ape come ingombro, no? Questo. È chiaro che nel momento in cui parliamo di altri veicoli che vediamo qua gli ingombri sono differenti, no? Questo per esempio che vediamo il Bullet è uno particolare... è un modello di un'azienda danese particolarmente veloce scattante e prestante tant'è che ci fanno anche delle gare con questi veicoli che sono lunghi intorno ai due metri e mezzo e sono larghi intorno ai 60-70 centimetri. È chiaro che nel momento in cui andiamo su un veicolo di questo tipo i volumi aumentano, le dimensioni aumentano però teniamo in considerazione che il cassone davanti è di un metro cubo quindi vuol dire un metro per un metro e quindi non so se l'ape ha un passo di un metro più poi bisognerà aggiungere 70-80 centimetri per il carro posteriore quindi insomma stiamo parlando di una cosa che sarà lunga più o meno due metri diciamo però quello che voglio dire è questo non va su un'acciclabile? Eh, non va su un'acciclabile certo che nel momento in cui noi facciamo delle bidirettive io non sono un architetto quindi vogliate scusarmi se entro nel merito della questione però è chiaro che nel momento in cui progettiamo delle ciclabili bidirezionali da un metro e mezzo è chiaro che questo discorso non ci sta, no? Questo è più che evidente è anche per questo che nel momento in cui ci ritroviamo a progettare non dobbiamo solamente progettare per quello che c'è oggi ma per quello che vogliamo che ci sia domani, no? Perché se dobbiamo andare incontro a quello che c'è oggi probabilmente le ciclabili non le progetteremo neanche perché diremmo tanto la maggioranza va in giro in macchina quindi le ciclabili non ci servono però se vogliamo andare in una direzione superiore e andiamo a vedere gli interventi che sono stati fatti in città con livelli di ciclabilità evoluta come può essere Copenaghen dove addirittura hanno creato delle ciclabili con due corsie per senso di marcia per fare in modo che da un lato ci stia per fare in modo appunto che due cargo si possano superare tra di loro quello lì è lo standard progettuale cioè se stanno se riescono a stare due cargo una di fianco all'altra magari uno a pedalata assistita che deve portare il cibo in ufficio a Pasquale e l'altro che deve portare la mamma che sta portando a casa i bambini dopo la nonna che sta portando a casa i bambini dopo la scuola e vuole fare una passeggiata nel parco è chiaro che hanno bisogno di velocità diverse non ci stanno nella ciclabili nel momento in cui ci progettiamo ciclabili come spesso avviene da 75 centimetri o da 50 centimetri perché non vogliamo dare fastidio agli altri allora no a posto sì sì perché tutti i veicoli che tutti i veicoli a pedale con con tre ruote non hanno bisogno di omologazione quindi qualunque cosa tu voglia fare basta che abbia tre ruote i pedali e il motore chiaramente conforme il motore ha bisogno di essere omologato quello sì però non hanno bisogno di omologazione quindi da quel punto di vista sono delle biciclette da carico esattamente solo che hanno tre ruote quindi tricicli per i disabili tanto quanto quelli per per portare questo tipo di per portare merci o persone grazie a tutti grazie a tutti